A me non sembra una soluzione adatta alla situazione europea. Voglio anche ricordare che tensioni di questo tipo non sono nuove. Nel 1996 Media Partner voleva dar vita a una superlega a livello europeo, tipo quella che si sta verificando adesso. E poi hanno risolto il problema, e abbiamo risolto il problema, io allora ero presidente della Lega, attraverso la modifica della Champions League. Io penso che FIFA, UEFA, grandi club debbano mettersi a tonno a un tavolo, farsi assistere dagli avvocati, non nel fare minacce di fide o cause, ma nel instaurare un clima di collaborazione e di trovare delle soluzioni ragionevoli. In Italia coloro i quali si davano più da fare in questo settore erano Galliani e Giraudor, amministratori delegati del Milan e della Juventus. Due persone che badavano molto agli interessi del proprio club, ma avevano anche un buon apprezzamento di quelli che sono gli interessi generali. seppero tirare la corda, ma evitare che si spezzasse. E io spero che succederà la stessa cosa a livello europeo, e credo che tutte le persone che dirigono questi club sono persone capaci. Hanno, secondo me, iniziato una trattativa dando un cazzotto, che non è sempre una cosa ben fatta, ma io penso che ci possa trovare il modo di ricominciare a discutere in condizioni diverse. Ripeto, meno minacce, meno fatti compiuti e più tranquillità. L'UEFA incassa circa il 25% di quello che incassano per la UEFA. Io penso che la soluzione sarà di trovare una formula diversa e che la UEFA contragga quello che è le sue royalties per il fatto che organizza la manifestazione e che dà il nome UEFA alla questione. Penso che i grandi club, oltre a cercare di fare più incassi, debbano anche cercare di ridurre un po' gli ingaggi di alcuni calciatori, soprattutto i guadagni iperbolici di questi mediatori, di calciatori che sono diventati quasi padroni del calcio. Pertanto, da una parte, chiedere magari a FIFA UEFA di rinunciare a una parte dei propri introiti, dall'altra parte essere loro stessi a ridimensionare un pochino le loro spese. Andrea Agnelli fa gli interessi del suo club, come è legittimo che faccia. Alcune volte sbaglia, alcune volte fa dei risultati straordinari. Tutti possiamo commettere degli errori. Io ripeto, si mettano tutti attorno a un tavolo, ragionino. La situazione è complicata e difficile, ma è complicata e difficile per tutti in tutto il mondo, perché la pandemia ha toccato il calcio come ha toccato tutti. Ecco, un po' di calma, un po' di garbo, un po' di rispetto degli argomenti di coloro i quali la pensano in modo diverso da te. Si ricomporrà, secondo me, almeno io spero, attraverso il campionato nazionale che sia la porta d'ingresso alle competizioni internazionali, una forma di Champions League magari rivista, e contraendo un po' quelle che sono le royalties dell'UEFA e della FIFA per le rispettive competizioni.